Negli episodi precedenti. Delle prove dello sbarco di Hitler in Argentina ci sono. Hitler ha incontrato un nazista di nome Fritz Mandel. Aveva una fabbrica di munizioni, quindi produceva armi qui. Probabilmente voleva istituire il Quarto Reich. La gente francese riferisce di una grande stazione radio nei pressi dell'albergo in Brasile. Non poteva avviare il Quarto Reich senza comunicazioni. C'era un balletto in programma al Grand Hotel di Cassino e un uomo tra il pubblico era senza dubbio Hitler. Io ho trovato qualcosa. Cosa? C'era un annuncio per un balletto. È lo spettacolo a cui partecipò Hitler. È interessante. Se un obiettivo di alto livello decide di spostarsi, lo fa o per la sicurezza o per tornare operativo. E a questo punto penso che possiamo dire che Hitler voleva tornare operativo. Cercava un'opportunità, un modo per tornare indietro. L'ex agente della CIA, Bob Bear, e l'investigatore di crimini di guerra, John Sensich, hanno usato centinaia di documenti desecretati dall'FBI per tracciare i possibili movimenti di Hitler dal suo bunker di Berlino nell'aprile del 1945. I loro risultati suggeriscono che nel corso di due anni Hitler abbia viaggiato per migliaia di chilometri verso l'Argentina e che poi si sia fatto lentamente strada in Sud America prima di arrivare in una piccola città brasiliana dove un rapporto dell'FBI lo colloca in prossimità di una potente stazione radio. Hitler era lì e probabilmente c'erano delle antenne militari in zona. Cosa aveva in mente? Era come un pezzo di Germania in Brasile. Ma quanto era estesa la rete tedesca in quell'area? Ho trovato un documento, un articolo intitolato Spie catturate in Brasile. Dice, la polizia brasiliana ha arrestato 36 tedeschi nello stato di Rio Grande, tra cui un ex ufficiale dell'esercito descritto come il direttore dei servizi di spionaggio tedeschi. È dove si trova Cassino. Molto interessante. C'erano spie tedesche nella città di Cassino. Durante la guerra. E il sistema di comunicazione potrebbe essere rimasto in piedi ed essere stato utilizzato dai nazisti anche dopo la guerra. Durante la Seconda Guerra Mondiale, delle spie tedesche operavano a Cassino. Esisteva una rete, delle infrastrutture. Se troviamo le prove di una struttura per le comunicazioni, era il luogo perfetto per uscire allo scoperto e tornare operativo. La squadra cerca di individuare l'apparecchiatura di comunicazione segnalata nel documento dell'FBI che colloca Hitler a Cassino, in Brasile. Questo documento dell'FBI ci dà delle indicazioni dettagliate. Ci indica dove andare, passo dopo passo. Facciamo una passeggiata e scopriamo cosa c'è lì. È possibile che nel punto indicato da quel rapporto ci fosse un'antenna? Sono passati 70 anni e probabilmente è stata distrutta, ma possiamo comunque seguire le istruzioni e scoprire dove ci portano. Andiamo a cercare quell'antenna. Questo percorso dovrebbe portarci alla torre di comunicazione. Sembra una mappa del tesoro. Troviamo la X che ci indica il punto. Sì? Deve esserci un grande tesoro sotto la X. Tim Kennedy delle Forze Speciali americane e il suo interprete cercano le prove dell'esistenza dell'antenna radio di cui si parla nel rapporto dell'FBI. L'informatore sul documento dell'FBI dà indicazioni molto precise su come trovare la stazione radio. Dice, partendo di fronte all'albergo, prendere il primo viale a destra. Cassino ha una disposizione abbastanza semplice. Le strade corrono da nord a sud o da est a ovest. Quindi è facile immaginare che le cose non siano cambiate dai tempi in cui è stato scritto il rapporto. Dopo pochi metri si trova una strada stretta. Questa sembra una strada stretta. Percorrerla per circa 5-7 minuti. E l'antenna sarà ben visibile. Sì. Siamo a 5 minuti ora. Sì. Le indicazioni conducono Tim in un isolato di case moderne. Una camminata di 5-7 minuti ci porta in questo isolato. Siamo fregati perché quello che cerchiamo è stato distrutto per costruire nuovi edifici. Tutti i segreti sono rimasti sepolti sotto a permessi, con tratti di affitto, diversi proprietari e diversi inquilini. Devo continuare a scavare. Devo bussare alle porte e parlare con la gente. Sa dirci niente sulla storia di quest'area. Era una zona rurale un tempo. Dieci anni fa è stata divisa. Apparteneva sicuramente a una sola persona e successivamente è stata divisa in parti più piccole. Esatto, fu divisa. Quindi tutto questo era di proprietà di una sola persona? Sì, del proprietario di quella casa all'angolo. Quella diversa da tutte le altre. Grazie. Dopo aver parlato con alcune persone... Ok, grazie. Abbiamo già ottenuto un indizio. Qui? In questa casa? Su una persona. Tim si avvicina alla casa i cui i vecchi proprietari una volta possedevano l'intero isolato. Buongiorno, possiamo parlarle un momento? Molto piacere. Piacere, Guilherme. Tim. Cerchiamo informazioni sulla storia di questa zona. Sì, questa casa... In realtà non sape bene... Suo nonno comprò la casa intorno al 1950 da alcuni tedeschi. Suo nonno comprò la casa da una famiglia tedesca? Sì. Sì, ok. È stata come un'illuminazione. Potrebbe essere il posto giusto. C'è qualche membro della tua famiglia che era presente all'epoca in cui fu comprata la casa e che è ancora vivo? Sì, certo. Mia zia potrebbe darvi qualche informazione. Non c'è problema. Posso mettervi in contatto con lei. Abita qui vicino. Sarebbe fantastico. Mia zia? Ecco. Salve a tutti. Vi presento mia zia. Gerard si unisce a Tim per intervistare la zia dell'attuale proprietario che era presente ai tempi in cui la casa venne acquistata. Quando suo padre acquistò la casa, cosa c'era intorno all'edificio? Intorno alla casa era tutto vuoto. La zona era tutta vuota. Non c'erano altre case intorno. Qualcuno della sua famiglia si è imbattuto in cavi, fili o antenne vicino alla casa o in qualunque punto della proprietà? No, assolutamente niente. Assolutamente niente. Cosa può dirci sulla persona da cui la sua famiglia ha acquistato la casa? So solo che era tedesco e che poi venne fuori che era nazista. Il vecchio proprietario probabilmente era un nazista. Quando suo padre comprò la casa, trovarono delle riviste con informazioni sull'esercito tedesco, foto di carri armati e di Hitler. Quindi, quando la sua famiglia si è trasferita qui, c'erano oggetti nazisti? Sì. Il nostro compito qui in Brasile è quello di corroborare una testimonianza, ma abbiamo fatto di più. Le indicazioni sul documento ci hanno portati in una casa che era proprietà di un nazista. Ricorda il nome dei vecchi proprietari della casa, quelli da cui la comprò suo padre? Lo ricordo benissimo, Sanders. Sanders. Sì. Ciao, Thais, mi senti? Sì, ciao. Siamo in una casa a Cassino che negli anni 40 era di proprietà di una famiglia o di un uomo di nome Sanders. Il contatto di Gerard, la dottoressa Thais Capello, è una storica che studia da anni la presenza di nazisti in Brasile. Sì, ho un file su Sanders. Era un membro del partito nazista. Sembra che fosse coinvolto in alcune attività sospette. Sai per certo che era membro del partito nazista? Sì, lavorò con un'altra persona all'installazione di una stazione radio qui. È un'ottima informazione, grazie mille. Ora sappiamo che il proprietario di questa casa aveva importanti legami con l'intelligence nazista. Sappiamo che la casa che corrisponde alla X sulla nostra mappa era di proprietà di una spia nazista. Abbiamo trovato il tesoro. Prima dei satelliti, i corrieri erano inefficienti e uno come Hitler aveva bisogno di comunicazioni affidabili, altrimenti non era niente. Bob Bear e John Sensich analizzano i risultati ottenuti dalla squadra a Cassino, Brasile, dove un documento desecretato dell'FBI colloca Hitler in prossimità di un'antenna radio due anni dopo la sua presunta morte. Le indicazioni del documento ci hanno portato direttamente in questa casa. Il cui proprietario originale era non solo tedesco, ma nazista. Nella casa sono stati ritrovati degli oggetti nazisti e lo stesso proprietario è stato arrestato, non per un crimine qualunque, ma per spionaggio. Le prove continuano ad accumularsi. È incredibile trovare questo tipo di conferme quando hai a che fare con indizi vecchi di 70 anni. Cassino è un punto caldo. C'è una rete estesa, agenti dell'intelligence nazista. È il tipo di ambiente che avrebbe cercato Hitler. Secondo i rapporti, Hitler si sta muovendo verso nord e ha bisogno di comunicare con le persone, ma una radio è solo l'inizio del gioco. È il 1947, probabilmente non è ancora nella posizione di potersi mostrare pubblicamente, ma cosa aveva in mente? Non poteva certo lanciarsi alla conquista del mondo da Cassino. Quali erano i suoi piani? C'è niente sui documenti che possa suggerirci cosa ha fatto dopo? Lavorando sulla premessa che Hitler nel 1947 era in Brasile e che si stava spostando verso nord, Bob e John studiano le centinaia di pagine di documenti in cerca di un indizio su dove possa essere andato dopo. Ho trovato un documento datato 22 maggio 1948 che colloca Hitler a Bogotà, in Colombia. Hitler, due medici tedeschi e due piloti, viaggiavano in aereo, portavano piani segreti per la bomba B-3 Skyrocket e l'intera documentazione sulle armi nucleari tedesche. Sono atterrati su un campo di aviazione a Bogotà. Una volta atterrati in Colombia, il pilota ha bruciato l'aereo e ha sommerso i resti nella vicina palude. Questo risponde alla domanda cosa farebbe un pazzo per riconquistare il potere? Hitler arriva con degli scienziati nucleari, brucia l'aereo e porta con sé i progetti per la produzione di testate nucleari. Stava cercando di alzare i toni. Nell'aprile del 1939 la Germania lancia l'Uran Project per sviluppare armi nucleari tedesche in segreto. Gli scienziati a cui venne affidato il compito sono tra i migliori al mondo, tanto che molti di loro dopo la guerra vennero reclutati dagli Stati Uniti per lavorare ai programmi americani. Anche se avvolto nel mistero, si riteneva che il missile B-3 avesse un raggio d'azione di migliaia di chilometri. Basta guardare la mappa. Da quello che sappiamo, un B-3 poteva fare circa 3.000 chilometri, il che significa che dalla Colombia avrebbe potuto raggiungere gli Stati Uniti. È assurdo? Sì, ma parliamo di Adolf Hitler, che non aspirava certo a diventare sindaco di un villaggio in Argentina. Voleva colpire il suo maggiore nemico, gli Stati Uniti. Sono stati loro a distruggere il Terzo Reich e solo una volta distrutti gli Stati Uniti poteva sorgere il Quarto Reich. Tutto questo potrebbe sembrare una follia, ma se un paio di anni prima dell'11 settembre avessimo parlato della possibilità di dirottare aerei di linee americani e distruggere il World Trade Center, avremmo abbandonato l'ipotesi. Ed è quello che ha fatto l'FBI nel nostro caso. Molti attacchi contro gli Stati Uniti restano solo progetti, pochi diventano realtà, ma questo non significa che non li stiano progettando. L'indicazione più specifica che abbiamo è che l'aereo su cui volavano è stato spinto nella palude. A questo punto voglio andare in Colombia. Se troviamo qualsiasi prova a sostegno di queste ipotesi, possiamo riscrivere la storia. Voglio vedere con i miei occhi. Qui è dove finisce tutto. È bello rivederti. A 50 piani sui tetti della vasta metropoli di Bogotà, Bob R. e John Sancic raggiungono Tim Kennedy delle Forze Speciali e il loro interprete per iniziare la caccia all'aereo che, secondo il rapporto dell'FBI, ha portato Hitler qui a 3.000 chilometri dagli Stati Uniti. Non avevo realizzato quanto fosse grande e tentacolare questa città. È cambiata molto. È completamente diversa da come era 60 o 70 anni fa. Tutte quelle zone non esistevano. Era tutto verde. Completamente verde. Ma quando la città ha iniziato a crescere, hanno prosciugato o riempito le paludi circostanti per costruire case, strade e tutto il resto. Quindi non sarà facile trovare quella palude. Cerchiamo un ago in un pagliaio. Dobbiamo scavare nei documenti per trovare diverse opzioni, diverse possibilità, per capire dove cercare prove o cosa escludere. E poi cercare l'aereo. Avrà avuto bisogno di infrastrutture. Non è certo venuto qui come turista. Pensava che la sua storia non fosse ancora finita. Pianificava qualcosa. Hitler era un opportunista e la Colombia era una grande opportunità. Nel 1948 la Colombia è all'inizio di un decennale periodo di caos, disordini politici e depressione economica detto la violenzia, causato dalle tensioni tra i due principali partiti politici. Le massicce rivolte che scoppiano in tutto il paese, compresa la capitale Bogotà, costano la vita a 180.000 colombiani. Era una vera follia. Ma lui cercava di incunearsi nel caos, quindi in Colombia. Indubbiamente dobbiamo trovare delle prove certe che sia stato qui. Se troviamo l'aereo, possiamo riscrivere la storia. dobbiamo continuare a scavare. Vista l'estensione di quasi 1.600 chilometri quadrati di Bogotà, la squadra si dirige verso il dipartimento urbanistico della città. Siamo arrivati! Dove hanno contattato Javier Rancón, nella speranza di individuare la palude dove potrebbe essere stato affondato l'aereo di Hitler. Cerchiamo una zona molto specifica. Abbiamo delle indicazioni dei punti di riferimento. La prima è che si trovava al di sotto della 68esima strada in una palude detta Santa Maria e in una zona denominata La Florida. La 68esima è questa. Scendiamo e troviamo la palude di Santa Maria del Lago. Qui? Sì, questa. Ci sono altri laghi o paludi che si chiamano Santa Maria? No. È sotto la 68esima. Sì. E Santa Maria è il nome esatto del lago. Già. incredibile. Abbiamo già qualcosa. Chi possedeva questa zona nel 1940? Vicino al lago c'era la casa di campagna di Alfonso López Pumarejo l'ex presidente della Colombia. Era tipico dei nazisti sfruttare uomini ricchi e potenti che potessero agevolare le loro azioni grazie al potere e ai soldi. È il copione che hanno usato in tutto il Sud America e che stiamo ritrovando anche in Colombia. Hai mai sentito storie su persone che cercavano di nascondere qualcosa nella palude? Quando ero bambino vivevo nei pressi della palude e la gente diceva che sul fondo ci fosse un aereo affondato. In che senso un aereo? Era una specie di mito e solo una storia. Sì, può essere ma vicino a casa mia c'è un lago e nessuno ha mai detto che sul fondo c'è un aereo. Fino ad oggi nessuno lo ha mai cercato o ha indagato sulla cosa. Non atterri con un aereo su una striscia rurale e lo affondi in un lago tanto per farlo. Devi avere un motivo. E anche se si tratta di un caso di 70 anni fa posso dire che siamo a un punto di svolta. È possibile che Hitler sia arrivato in Colombia nel 48 e poi si è scomparso qui. C'è qualcosa davvero. È una vera palude direi. Sì. La squadra arriva alla palude Santa Maria il punto in cui secondo alcune voci e secondo il documento dell'FBI Hitler sarebbe arrivato in Colombia su un aereo successivamente bruciato e affondato nel lago. Abbiamo sentito la storia dell'aereo affondato nella palude e siamo a una settimana di macchina dal confine americano. Qui poteva esserci una potenziale minaccia nucleare per gli Stati Uniti. Hai mai cercato qualcosa che è scomparso da oltre 50 anni? Sì, ho cercato aerei scomparsi da oltre 50 anni in ambienti molto simili a questo. Reagan Lipinski un esperto di rilevazioni marine si è unito alla squadra. È equipaggiato con un sonar all'avanguardia che sfrutta le onde acustiche per creare immagini ad alta risoluzione e in tempo reale del fondale della palude. Parliamo di un piccolo aereo. Anche se è bruciato l'acciaio dovrebbe essersi mantenuto. Dovrebbe essere integro. Esatto. Reagan è il migliore in questo campo. È un vero specialista del settore. È in grado di trovare oggetti di pochi centimetri sui fondali melmosi dei laghi. È l'uomo a cui rivolgersi. Mentre John indaga sulla potenziale rete nazista che avrebbe potuto sostenere Hitler in Colombia... Ci vediamo dopo. Ok. Il resto della squadra prepara il sonar per iniziare la scansione della palude in cerca di prove dell'aereo affondato. Coraggio, mettiamoci al lavoro. C'è Reagan e abbiamo tutte le attrezzature necessarie per scoprire se davvero c'è qualcosa in fondo a questo lago. Andiamo a cercare il nostro obiettivo. Ok, il pesce è in acqua. Il fondale della palude è pieno di fitta vegetazione per questo usano una fune al posto del motore per navigare su queste acque. La velocità va bene? Sì, perfetta. Quando cerchi qualcosa c'è sempre una certa eccitazione. Sono radici di alberi. Una certa ansia, un po' di timore ma anche tanta energia. Abbiamo un piccolo bersaglio. Proveremo sicuramente qualcosa in fondo a questa palude. Dall'altra parte di Bogotà John incontra Dionel Benitez un esperto della storia dell'aviazione colombiana. Hitler non avrebbe fatto atterrare un aereo in un paese dove non c'era un'infrastruttura nazista che potesse supportarlo e fornirgli servizi di intelligence e logistica. Durante le nostre ricerche abbiamo trovato una compagnia aerea alla SCATTA che fu accusata di aver avuto legami con la Germania. Vorrei sapere se può dirci qualcosa sulla SCATTA. La Colombia aveva seri problemi con i trasporti. Così il governo decise di fondare questa compagnia aerea per tentare di risolverli. La SCATTA nota anche come società di trasporto aereo tedesco-colombiana venne costituita nel 1919 da un gruppo di piloti tedeschi che si erano trasferiti in Colombia dopo aver prestato servizio durante la Prima Guerra Mondiale e fu fondata con lo scopo di favorire gli spostamenti di merci e persone attraverso le vaste zone rurali mal collegate dalle strade. c'era qualche membro del partito nazista coinvolto in questa compagnia. Herbert von Boye era tedesco e fu accusato di essere nazista. Cosa gli è successo? Aveva una famiglia qui. Quindi viveva qui in Colombia? Sì. Quando è morto? Nel 1973. La sua tomba è nel cimitero tedesco. Herbert Boye era coinvolto nella compagnia aerea Scatta e fu sospettato di far parte del partito nazista. Mi sembra che abbiamo un elemento chiave su cui approfondire le nostre indagini. John attraversa la città diretto al cimitero tedesco ultima dimora di Herbert Boye. Colonnello Boye? Oh, eccolo. Colonnello. Abbiamo trovato il colonnello Boye. Ma la domanda che mi pongo è se abbia davvero avuto contatti con qualcuno dei nazisti che si trovavano in Germania oppure no. Era nato nella stessa regione in cui era nato Josef Goebbels. Goebbels. Josef Goebbels. Sì. Lo stesso Josef Goebbels che si trovava nel Führerbunker con Adolf Hitler. Sì. Ovviamente che tenia che tenere alcuna relazione C'era sicuramente un legame perché da bambino era andato a scuola insieme a Josef Goebbels. Josef Goebbels era il ministro della propaganda, uno dei principali promotori dell'Olocausto. Era sicuramente una persona fondamentale. La scatta? Proseguì l'attività negli anni 40? No. Il presidente colombiano imprigionò i nazisti. solo per fare chiarezza il presidente ricercava e imprigionava le persone sospettate di essere membri del partito nazista. Sì, esatto. Nei primi anni 40 la Colombia si unisce agli alleati e da quel momento il presidente colombiano fa arrestare le persone sospettate di essere naziste. Solo un momento mi perdoni la palude di Santa Maria dove si trovano Tim e gli altri in questo momento era di proprietà del presidente giusto? Perché sarebbero dovuti atterrare nella proprietà di quel presidente che li sta ricercando e che li mette in prigione? Non ha alcun senso. La palude in cui stiamo cercando non è quella giusta. Il presidente faceva arrestare i sospettati nazisti e li metteva in prigione. Se fossero atterrati lì sarebbero stati in trappola. Dobbiamo cercare altrove dobbiamo avvertire gli altri quello non può essere il posto. No, di sicuro deve essere altrove non lì non può essere. Torniamo indietro. D'accordo. Mentre indaga su possibili sostenitori che potrebbero avere aiutato Adolf Hitler una volta atterrato a Bogotà come dichiarato in un documento dell'FBI John Sancic ha fatto un'incredibile scoperta che potrebbe cambiare il corso della caccia all'aereo affondato nella parude. Bob, sono John. Ehi, John! Volevo dirti che cosa abbiamo scoperto. La terra su cui vi trovate il punto in cui secondo il documento dell'FBI è atterrato l'aereo con Adolf Hitler e altri nazisti era di proprietà del presidente colombiano ma non credo che sia il posto giusto in cui cercare. Ho scoperto che il presidente dava la caccia ai tedeschi a tutti coloro che sospettava fossero nazisti. Questo mi ha aperto gli occhi. È impossibile che abbiano deciso di atterrare proprio lì. Sono d'accordo. Se progetti qualcosa del genere minimizzi i rischi. Il luogo non può essere questo. So che Santa Maria era sul documento iniziale ma penso che dobbiamo controllare qualche altra palude sotto la sessantottesima. Dovresti tornare agli archivi per valutare altre possibilità. Ora che abbiamo escluso questa palude dobbiamo capire quale altro luogo potrebbe essere quello giusto. D'accordo. Va bene, va bene. Ci sentiamo. Ciao. John torna al Dipartimento urbanistico della città di Bogotà in cerca di altri specchi d'acqua che potrebbero corrispondere a quello indicato nel documento dell'FBI. Il mio compito è essere più accurato possibile. Il documento è stato tradotto e poi trasmesso all'FBI. Ora voglio tornare indietro e riguardare il documento nella versione originaria spagnola non quello tradotto. Solo così potremmo essere sicuri che non manca nulla. Lasci che le spieghi. Probabilmente abbiamo un problema di interpretazione o comprensione quindi forse è meglio che le legga le frasi in spagnolo. Las avionetas in el campo de aviazion de la Florida en ese entonces abbandonado abajo de la calle 68. Santa Maria. Ci sono due opzioni perché questa è la 68esima strada e quindi potrebbe essere sotto la strada o alla fine della 68esima. Alla fine della 68esima. Ok. Un momento. Hai detto alla fine? Sì, alla fine. Non ho capito. Perché dice alla fine? Dice abaco. Mi state dicendo che abaco significa anche la fine della strada? Sì, è il punto in cui una strada finisce. A volte le parole che vengono tradotte possono avere diversi significati così tiempo può significare sia tempo che clima e abaco non significa solo sotto ma potrebbe significare alla fine della 68esima strada. D'accordo. Quello che ho capito io è che se prendiamo la 68esima strada fino alla fine Sì, esatto. Arriviamo direttamente nella zona di La Florida. Alla fine della strada si raggiunge un'altra zona paludosa detta la Florida anche questa nominata nel documento. È possibile fare un giro in barca nella palude? No, è impossibile. È un'area protetta a causa della sua biodiversità. Ma se fossimo molto determinati e noi siamo molto determinati si potrebbe fare qualcosa? No, no, è impossibile. Ok, no, 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 non sarà facile, ma ci serve una barca lì fuori a tutti i costi. Bob Bear sta cercando attraverso canali non convenzionali di ottenere l'accesso all'area protetta di La Florida che potrebbe essere il luogo in cui è stato affondato l'aereo che ha portato Hitler in Colombia come indicato nel documento dell'FBI. Lo so che è una questione delicata ma proviamoci in tutti i modi. Grazie. Da quella parte? Sì, ci siamo. Parco La Florida. Bob, Tim e Regan Lipinski, un esperto di rilevazioni marine, sono diretti alla Florida. Sembra il posto giusto. Sì, ingresso, sì signor. Buono signor. Sì signori, avete l'autorizzazione ad entrare. grazie. Entriamo. Durante la notte è stata concessa un'autorizzazione senza precedenti di 12 ore dall'amministrazione del parco cittadino per fare ricerche nelle acque. Se troviamo un aereo avremo la conferma del rapporto del governo americano che sostiene che Hitler arrivò qui nel 1948 per poi scomparire. questo ha molto più senso. Sì, guarda l'aeroporto. Ci sono delle piste qui intorno e sono vicine alla palude e forse quella che una volta era una piccola pista si è trasformata in un aeroporto. In più è una zona remota. Sì, è lontana. A una prima occhiata mi sembra decisamente più promettente. Un piccolo aereo in atterraggio alla Florida non avrebbe attirato l'attenzione di nessuno ma un aereo bruciato e spinto in acqua sicuramente sì. Il punto è che questa è una zona rurale. Se dovessi bruciare un aereo e affondarlo lo farei proprio qui. Come effettuerai la ricerca? Vedi queste tre isolette? Formano un grande rettangolo Sì. Perfetto per una ricerca griglia parallela avanti e indietro prima su questo lato e una volta finito con la stessa modalità sul lato opposto rispetto alle isole. Andiamo verso l'aeroporto e poi torniamo indietro. Ok. Iniziamo le ricerche. Andiamo. Tim e Reagan preparano il sonar a scansione laterale prima di immergerlo in acqua e iniziare la loro ricerca mentre Bob li coordina dalla costa. Pesce in acqua attenzione. Abbiamo immerso il sonar in acqua ora iniziamo la scansione della prima porzione dell'area. Ricevuto. Questa è la costa e questa è l'area che riusciamo a coprire. Sono circa 20 metri da entrambi i lati della barca. Guarda qui non c'è quasi niente da questa parte. Sì. Questo è un pezzo di tronco d'albero. Che vedete? Ancora niente. Sembra piuttosto pulito. Stiamo andando avanti e indietro per condurre questa ricerca. Non c'è niente ma le indagini richiedono molta pazienza. Siamo a 20 metri dalla fine. Una volta arrivati giriamo e riprendiamo a seguire la linea nell'altra direzione. Abbiamo completato la prima metà della nostra griglia di ricerca. Ora proseguiamo nell'altra metà. È la prima anomalia. Sì, non voglio fermarmi a misurarlo ma è sicuramente artificiale. È perfettamente rotondo. Oh, guarda qui. Questo potrebbe valere un'immersione. Accidenti. Andiamo avanti, andiamo avanti. È un grande obiettivo. Guarda, è una specie di gabbia. C'è qualcosa qui sotto. Potrebbe essere il telaio della fusoliera. Oh, cazzo. Ehi, Bob. Abbiamo trovato qualcosa da osservare faccia a faccia. Ok, tornate qui. Abbiamo qualcosa. Potrebbe essere una porzione di ala. È incredibile. Forse abbiamo trovato quello che stiamo cercando. Non riuscirai a crederci. Pronto? Sì. Guarda ora. Wow, incredibile. Sembra proprio un'anomalia. È lungo sei metri e largo tre. Non c'è nient'altro qui. Questa non è certo una discarica. No. Un'anomalia resta tale finché sei sulla barca. Per trovare le prove dobbiamo vederla con i nostri occhi. Dobbiamo prepararci ad un'immersione. Non aspettavo altro. Tu hai fatto il tuo lavoro. Ora è il mio turno. Devi vedere questa immagine. È impressionante. Se prima avevo dei dubbi, ora non ne ho più. Ecco, guarda qui. La squadra verifica i risultati del sonar nella palude di La Florida che potrebbe ospitare i resti dell'aereo che ha portato Hitler a Bogotà. Siamo pronti. Il sonar è attivo e il rilevatore è fuori dall'acqua. Restano solo quattro ore allo scadere del tempo concesso per l'esame di quest'area protetta. Tim Kennedy si prepara a immergersi nelle acque turbide di questa palude colombiana. Cercherò di filmarlo per qualche secondo così possiamo vedere di che si tratta. Tim viene affiancato da un subacqueo di supporto Matt Moreau e dall'esperto di rilevazioni marine Reagan Lipischi. Questo è il piano per il nostro tentativo. È già pomeriggio la temperatura dell'aria sta scendendo rapidamente ma soprattutto la luce del giorno sta calando. Faremo così. Prima cercheremo di identificare l'oggetto e poi penseremo a come recuperarlo. Ok. Potrei essere sul punto di trovare le prove che Hitler venne in Colombia e passò in Sud America il resto della sua vita. è ora di entrare in acqua. Pronto? Tre, due, uno. Appena mi sono immerso ho notato il colore dell'acqua tra il marrone e il giallo scuro. No! Merda! Sì, è orribile. La visibilità in cima era meno di un metro ma arrivati sul fondo era zero nemmeno un centimetro. Sono le condizioni peggiori per un subacqueo. Ci sto sopra! È qualcosa di molto grande. Riesce a capire la forma? È squadrata è una struttura di metallo ma non è molto robusta si muove sotto il mio peso. Può avere la forma di un'ala? Non lo so la visibilità è pessima non si vede niente. Possiamo provare a fare un controllo più approfondito ma non è semplice. È coperto di fango e la visibilità in acqua è talmente scarsa che non sarà facile riuscire a distinguere di cosa si tratti. È alluminio. Abbiamo trovato pezzi di metallo e corda e poi altri pezzi che sembrano una rivettatura. Così abbiamo iniziato a portare in superficie questi pezzi per capire a cosa appartenessero. È legno? Sai cos'è? Un molo. No. C***o. C***o. È assurdo. Ci restano 15 minuti di luce. Dovete uscire dall'acqua. Siamo molto delusi che non sia quello che stiamo cercando. Si è chiusa una porta ora siamo in un vicolo cieco ed è molto frustrante. Bob, sono Tim. Abbiamo trovato l'anomalia ma non è quello che cerchiamo. Tornate indietro sta facendo buio e sta arrivando il maltempo. Dobbiamo andare ma io penso che quell'aereo potrebbe essere lì. Molto del materiale su cui abbiamo indagato si è rivelato affidabile. Perciò dobbiamo guardare alla totalità delle prove non a un solo indizio. Sto analizzando le cose da una prospettiva di intelligence. Sto osservando il quadro generale. Non ci sono prove che Hitler sia morto nel bunker. Secondo me invece abbiamo molte più prove che Hitler possa averla fatta franca inscenando la sua morte. a Berlino abbiamo scoperto un tunnel segreto che collegava il suo bunker all'aeroporto di Tempelhof dove ci fu un esodo di aerei. Se avessi dovuto spostare Hitler ti assicuro al 99% che ci sarei riuscito e che l'avrei portato in Spagna. In Spagna abbiamo trovato molte prove. È una svastica quella? Incredibile. Un testimone oculare in un monastero. ha detto di aver visto qui con i suoi occhi Hitler. Qui? Sì. E poi Vigo dove Hitler potrebbe aver preso un U-boat. Cosa è successo al sottomarino? Non lo sanno. In Argentina abbiamo trovato montagne di prove. Sottomarini affondati. Una casa a Bariloce con un bunker segreto. La sua presenza all'hotel Eden dove entra in contatto con un noto produttore di armi nazista. Da lì probabilmente si è rifugiato nella giungla dove abbiamo trovato un complesso pieno di manufatti nazisti e chiaramente pensato per un obiettivo di grande valore. Poi è riapparso sulla scena e probabilmente aveva grandi piani. La caduta di Berlino per lui non ha segnato la fine del nazismo. Non voleva fermarsi. Io sono soddisfatto delle prove che abbiamo trovato. Potrebbe averlo fatto davvero? Assolutamente sì. E le prove raccolte dalla squadra lo dimostrano. Ci sono più prove per questo che per la sua morte. Quando ho iniziato l'indagine ero scettico davo per certo che fosse morto in quel bunker ma francamente non credo che uno come Adolf Hitler si sarebbe arreso così facilmente. aveva una via d'uscita perché non sfruttarla. Lui guardava avanti guardava sempre avanti e sinceramente trovo incredibile che gli storici ci abbiano sempre lasciato credere qualcosa di cui non ci sono prove. Noi crediamo alla storia ma su cosa si basa in realtà? I libri dicono senza alcun dubbio che Hitler è morto in quel bunker ma con le prove che ho raccolto posso tranquillamente dire che non è vero. La storia non è sicura come crediamo. Già. Non smetterò mai di cercare la verità non mi fermerò non accetterò mai fatti non documentati non lo farò più.